Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Oggi da casa è passato un corriere e mi ha lasciato questo bel pacchetto che non vedo l'ora di aprire e ho pensato di farlo insieme a voi in questo video unboxing. Già so più o meno di che cosa si tratta, ma non vedo l'ora di aprirlo e naturalmente di cominciare ad utilizzare questo prodotto che è veramente super super interessante. Ma bando alle ciance, andiamo subito ad aprire questo pacco e vediamo che cosa contiene al suo interno. Ed eccoci arrivato finalmente al momento tanto atteso, ovvero l'apertura di questo pacco. Io mi sono aiutata solo con le forbici, non ho ancora visto cosa c'è all'interno di questo pacco e lo farò insieme a voi. Come prima cosa pesco questo adattatore con diverse prese, anche questa custodia è molto comoda per portarlo in viaggio e come vedete vi faccio vedere tutte le prese, in modo da poterlo utilizzare anche noi in Italia, ma anche magari nei nostri viaggi, nei vari stati. Poi abbiamo l'essenza H.Essence macchiata a Comper come il dispositivo. Questo ci sarà molto utile per utilizzare e fare un trattamento. Vi ho fatto un piccolo spoiler. Comunque l'essenza è in questa confezione argentata specchiata col contagocce e infine lo scrigno delle meraviglie, molto molto elegante, che racchiude il protagonista. Lo so che siete curiose quanto a me, quindi la andiamo a aprire subito. Questo è un cassetto che si apre con una linguetta. Nel primo scomparto troviamo questa scatola con all'interno tutte le garanzie, ma anche il libretto di istruzioni e certificazioni. Poi abbiamo questa custodia per portarlo in viaggio con noi. Abbiamo l'alimentatore con presa appunto cinese, per questo abbiamo quegli adattatori. E infine il nostro dispositivo. Dopo lo spacchettamento, rieccoci con il protagonista di questo video, Comper Smartkin Max. È in silicone di grado medico, quindi molto molto sicuro, non si rovina nel tempo e quindi non invecchia. Ha pochissimi tasti, quindi è molto molto semplice da utilizzare. È molto maneggevole e molto leggero, in modo che noi quando andiamo a fare il nostro trattamento in modo continuativo, sicuramente il nostro braccio e la nostra mano non ne risentirà. Ha una sonda molto ampia che ci permette appunto di lavorare su una zona più ampia e quindi di creare un trattamento veloce e molto molto efficace. La sonda è composta da un oro rosa di 18 carati. Questo dispositivo si collega tramite app, in modo da dare a ogni persona un trattamento mirato. In questo dispositivo abbiamo quattro funzioni molto importanti. Ad esempio la prima funzione è la radiofrequenza, che è un trattamento che non si ferma solo sullo strato superficiale della nostra pelle, ma va in profondità nel derma, dando la possibilità di rassodare e la riduzione delle rughe. E distende i tratti. La seconda funzione è la EMS, ovvero l'impulso elettrico a frequenza intermedia modulata. Serve appunto per un sollevamento rapido dei muscoli del nostro viso, dandogli rassodamento ed è come se facessimo uno yoga passivo alla muscolatura del nostro viso. La terza funzione è la funzione LED. Avrete capito dalla parola LED che si tratta di luce, ovvero la luce rossa, che aiuta per il fotoringiovanimento, che regola anche la secrezione di sebo delle nostre ghiandole sebace e quindi riduce le imperfezioni, i pori, la lucidità del nostro viso, ma anche lo stato di infiammazioni. E l'ultima funzione è la MAS, vibrazione di massa. Questa funzione ce l'hanno diversi prodotti. Ad esempio il famosissimo Foreo fa un massaggio del viso e aiuta anche a far assorbire i prodotti che noi andremo ad applicare sulla nostra pelle. Quindi a far penetrare meglio i nutrienti e i principi attivi di cui la nostra pelle ha bisogno per creare un trattamento ancora più efficace. Ho letto un po' la scheda tecnica sia del prodotto e sia dell'azienda ed è un'azienda composta da un'elite di esperti delle migliori università, ad esempio quella di Stanford, ed è un dispositivo con certificazione FDA statunitense, ma anche la CE, la nostra europea, e infine la cinese, la CFDA. Ed ora non mi resta che provare questo dispositivo, metterlo in azione. Non vedo l'ora, sono super super curiosa. Mi sono trovata bene con diversi device e sono sicura che con questo mi troverò benissimo e andrà diretto tra i miei preferiti e immancabili nella mia skin care routine. Se siete interessati a questo dispositivo, con il codice sconto Laura avete il 15% di sconto e vi lascio qua sotto il link del prodotto, dove potete andare a leggere tutte le sue caratteristiche. Vi darà un altro video su questo prodotto dopo averlo utilizzato almeno per 21 giorni o un mese per parlarvi in modo più dettagliato, parlarvi della mia esperienza e vi vorrei far vedere anche il dispositivo in azione collegato alla sua app. Fatemi sapere se siete interessati a questo video qua sotto nei commenti. Naturalmente per non perdervelo non vi resta che iscrivervi al canale e azionare la campanella così da non perdere nessuno dei miei video. Se questo video vi è piaciuto e ne volete degli altri lasciate un bel pollice in su e mi trovate anche su Instagram e Facebook dove posto spesso foto, post e story. Vi aspetto anche lì. Vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! 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 Ciao!